Musica Bentrovati, la terza edizione del TG6 è stabilita per settembre 2018 la data di chiusura dei cosiddetti tribunali minori abruzzesi. Si tratta di quelli di Vasto, Avezzano, Sulmona e Lanciano, un provvedimento emanato dal governo Monti che oggi ha riunito intorno allo stesso tavolo tutte le forze politiche del governo abruzzese. Francesca Romana Testi Piccoli tribunali a rischio e chiusura non è una novità ma solo un rinvio che trova origine nella disposizione ai tempi del governo Monti. Da lì in poi un rinvio a causa terremoto e successivamente quello previsto dal decreto mille proroghe del 2014. La scadenza attuale è quella di settembre 2018 e in ballo ora c'è la sorte dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano. Una preoccupazione per i diversi territori abruzzesi che vedrebbero un isolamento in termini di distanze ed anche funzionalità spicciola. Oggi un vertice alla regione ha messo nello stesso tavolo tutti i rappresentanti dei diversi soggetti in questione per pianificare una strategia comune. Noi chiediamo al governo di rivedere la geografia giudiziaria e di riampliare semmai gli ambiti giudiziari, potenziare invece queste strutture che loro definiscono di minore entità, potenziarle e questo si può fare per far sì che i servizi ai cittadini vengano mantenuti. Una proroga che per me, sindaco di Vasto, dovrà diventare anche un momento per chiedere la definitiva stabilizzazione di questo servizio di giustizia, ovvero il mantenimento del tribunale di Vasto, in quanto è un tribunale importante per il sud dell'Abruzzo e un tribunale che rappresenta momento di confine con altre regioni. Io ricordo per chiarezza che nel 2012 il Parlamento ha deciso di chiudere quattro tribunali abruzzesi, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Questa chiusura è stata sospesa a causa del terremoto e la sospensione cessa a settembre 2018. Ora, perché il Parlamento possa tornare indietro rispetto a una decisione che ha già assunto, è necessario che la comunità abruzzese politica si metta d'accordo. Io ritengo molto difficile che si possano salvare tutti e quattro i tribunali soppressi, perché, come ha detto il Ministro Orlando quando è stato qui, abbiamo chiuso uffici in tutta Italia e la riforma ha funzionato. Migliaia di ore di lavoro da parte dei volontari per salvaguardare una specie cara all'Abruzzo. Si tratta dell'orso Bruno Marsicano messo a rischio dall'assenza di strumenti e attività che impediscono lo sconfinamento in aree popolate. L'appello corale è quello dell'intervento delle forze politiche regionali. Il servizio. Un dossier per mettere in luce tutte le attività portate avanti dai volontari delle associazioni per la salvaguardia, è di uno dei simboli più conosciuti da Bruzzo, l'orso Bruno Marsicano, una specie protetta che però, come riportato dalla cronaca, negli ultimi due anni ha perso alcuni suoi esemplari per l'assenza di strumenti che impedissero loro il contatto con l'uomo, le coltivazioni e gli animali d'allevamento. C'è bisogno di creare un clima di condivisione della presenza dell'orso, che è una grande risorsa, ed è quindi possibile accettare e convivere con la sua presenza, facendo prevenzione, mettendo in sicurezza quelle che si chiamano le fonti trofiche, cioè i pollai, la frutta, insomma altre cose, semplicemente distribuendo le cinti elettrificate, facendo altre misure di questo tipo e soprattutto facendo informazione per salvaguardare questo animale straordinariamente prezioso e bello, che è il simbolo stesso della nostra regione e del quale rimangono purtroppo solo 50 esemplari. Sono stati i volontari di associazioni come dalla parte dell'orso, salviamo l'orso, il WWF, a sostenere l'onere di fornire 252 recinti elettrificati, la realizzazione di segnaletica stradale per impedirne l'investimento e l'acquisto emesso in opera di cassonetti dei rifiuti a prova di orso. Tutte cortezze che potessero evitare il superamento di confini difesi, spesso con l'utilizzo delle armi, dall'ingresso degli orsi, che come ricordano le associazioni non costituiscono un pericolo per l'incolumità dell'uomo, non si registrano infatti attacchi all'uomo da più di 100 anni. Il nostro orso è il più pacifico al mondo, non c'è nessun segno di alcun tipo di aggressività da parte di questo animale e non abbiamo nessun record di incidenti. Certo è che però gli animali selvatici devono stare nel bosco, non devono entrare in paese. In ogni caso, per evitare questo tipo di situazioni, la prima delle misure è quella di mettere in sicurezza le risorse che attraggono questi animali. L'appello infine è diretto alle istituzioni regionali che non hanno dato alcun segnale di tutela e sostegno al lavoro operato dai volontari. Un appello rivolto all'assessore regionale Donato Di Matteo, responsabile della tutela dei parchi, e ancora Dino Pepe con la delega all'agricoltura e non ultimo Mario Mazzocca, rappresentante regionale di SEL con delega all'ambiente. Fare rete vuol dire collaborare tutti, enti deputati al governo del territorio, enti deputati alla tutela e soprattutto le associazioni ambientaliste che vivono in quei territori e che quindi sono in grado di fornire gli strumenti e anche il dialogo fra l'istituzione e il territorio stesso proprio per poter garantire che anche al di fuori delle aree protette l'orso possa comunque muoversi, come è giusto che sia, in tutta sicurezza. E nel Terramano è stato riaperto il ponte di Nocella a Campli. Il viadotto era interdetto al traffico dal 30 ottobre a causa dei danni causati dal sisma. La struttura dei primi anni del Novecento è transitabile a senso unico alternato con una limitazione di velocità perché è ancora aperto il cantiere del nuovo ponte, un investimento da un milione e mezzo di euro che corre parallelo a quello esistente e che sarà completato entro la primavera. Questa mattina sul posto c'erano il presidente della provincia Renzo di Sabatino, il consigliere delegato Mauro Scarpantonio. Abbiamo rispettato l'impegno preso con cittadini e amministratori, riapre questa via d'accesso al paese prima di Natale, hanno dichiarato. E a Montesilvano si sono riunite le forze dell'UDC in un congresso che ha presentato il nuovo programma politico messo in campo visto l'annunciato ritorno alle urne degli italiani. Dopo le dimissioni del premier Renzi, al centro dell'attenzione il tasso crescente di povertà e la riforma del lavoro. Vediamo. L'UDC torna alla carica dopo il no, il referendum, l'abbandono dell'ex premier Renzi e l'annunciato ritorno alle urne dopo il raggiungimento della legge elettorale, squadra in campo per accaparrarsi terreno o meglio per colmare il vuoto creato dalle spaccature del PD nazionale. L'UDC annuncia di non volere alleanze e di concentrarsi solo sulle reali questioni che riguardano gli italiani scontenti del governo PD. Siamo stati sei mesi a discutere di referendum e noi abbiamo assunto una questione molto chiara cercando di spiegare le ragioni del no ma in maniera seria, cioè entrando nel merito molti altri hanno fatto altre cose. C'è stato un voto molto chiaro in questo referendum. Non vorrei che per i prossimi mesi in Italia dobbiamo assistere ancora a un dibattito interno del PD, a uno scontro interno del PD che non ha nulla a che vedere i problemi della gente. Noi vogliamo tornare in Parlamento, perché stiamo ricostituendo i gruppi dell'UDC nella Camera di Deputato già da questa settimana, per tentare di riaffermare che è al centro della politica, cioè prima la risoluzione dei problemi e poi le beghe interne dei partiti e lo vogliamo fare affrontando questioni di ordine concreto. Non è possibile stare in un paese in cui ci sono 7 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà. Noi abbiamo il dovere di dare risposte, affrontare il tema della disoccupazione giovanile. Non si può stare in un paese con il 40% dei giovani disoccupati, con una riforma che sembrava 6 a quella del Job Act e che oggi invece ci deve indurre a riflettere che va cambiata quella legge, perché non possiamo avere un milione e mezzo di voucher in giro con della gente che andrà a finire per strada tra qualche mese. Quindi dobbiamo affrontare questi argomenti, sono le questioni che stanno a cuore nell'UDC, oltre a quelle che di riaffermare la difesa dei valori importanti che sono dietro lo scudo croceto, la difesa della vita senza senza la ma, non vogliamo sentire parlare di gender, vogliamo rimettere al centro della pubblica e della famiglia che significa fare cose concrete a sostegno delle famiglie soprattutto che vivono in situazioni di difficoltà e lo faremo da soli, non guardando né più a destra né più a sinistra, quindi riaffermando con forza che c'è l'esigenza di un partito di centro popolare, democratico e cristiano che deve tornare ad affrontare i problemi di serie delle persone. Vediamo adesso la cronaca, arrestato perché trovato in possesso di 33 grammi di eroina e 1,5 di cocaina. I domiciliari, nell'ambito della consueta attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, portata a termine nelle ultime ore dagli agenti della Polizia di Stato, è finito Guerino Morelli, 19 anni, di Pescara. Il giovane, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso dello stupefacente che è stato sequestrato dai poliziotti. Il 19enne ora ha gli arresti nel suo domicilio a disposizione dell'autorità giudiziaria. A distanza di un anno dall'insediamento del nuovo CDA, il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, ha presentato i risultati lusinghieri della gestione dell'azienda speciale Chieti Solidale. Andrea Costantini. Bilancio sociale in pareggio e aumento dei ricavi per 130 mila euro. Sono questi alcuni degli aspetti principali che hanno caratterizzato l'ultimo anno dell'azienda speciale multiservizi Chieti Solidale, società che conta 200 dipendenti e che opera nel campo dei servizi socioassistenziali, in particolare la gestione delle farmacie comunali. Risultati positivi, imputabili al nuovo management voluto dall'amministrazione comunale di Chieti, il presidente del CDA, Alfiero Corbo, e il direttore amministrativo, Angelo Romano. Nessuna interruzione dei servizi al cittadino. È un'attività condotta con piglio manageriale, ma anche con grande umanità. La soddisfazione del sindaco di Chieti, Umberto Di Primio. A un anno di distanza dalla nomina del nuovo governo della Chieti Solidale abbiamo finalmente dati che ci parlano di un'azienda che opera nel sociale, ma lo fa puntando non soltanto alla tutela dei diritti di chi viene assistito, ma anche con un occhio alla managerialità con la quale aziende pubbliche vanno gestite. Abbiamo avuto finalmente numeri positivi nella gestione delle farmacie, con l'attenzione soprattutto rivolta alla gestione degli approvvigionamenti e dei contratti con le aziende. Abbiamo il bilancio del sociale che si chiude in pareggio, ma senza far mancare servizi a nessun cittadino della nostra città. Questi sono i dati più rilevanti che ci dicono che quando scegliamo persone al di fuori della politica, ma che vogliono prestare servizio anche gratuito, addirittura perché il Consiglio di Amministrazione del Multiservizi è a titolo gratuito che svolge la propria attività, ma quando vengono scelte le professionalità e la voglia di fare dei giovani, i risultati poi si vedono. E domani a partire dalle ore 18 si svolgerà la seconda edizione del Memorial Massimo Gallucci al Teatro Comunale di L'Aquila, nel servizio ai dettagli della manifestazione. Germana Dorazio. Domenica 18 dicembre si celebrerà il secondo Memorial Massimo Gallucci. Nel ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila dalle 18 in poi si ricorderà il medico, il ricercatore, il maestro, lo scrittore e il musicista Massimo. Con spettacoli tra umore e scienza, l'arte ispira l'arte, a cena con Massimo un buffo buffet e le note degli amici, i sale chiodato che chiuderanno la serata, il ricordo di Massimo Gallucci sarà vivo più che mai. Lo spirito è la totalità del diciano dell'arte che caratterizzava Massimo, che ricordo oltre a essere un medico valente, ricercatore, era anche un artista. Artista perché scriveva libri, scriveva testi musicali, testi di canzoni, scritto due grossi, grossi, insomma per noi grossi romanzi che sono stati anche... E tra gli appuntamenti Sirling Moss sarà l'ospite d'onore nel 2017 alla rievocazione del circuito di Pescara. Oggi l'annuncio ufficiale da parte dell'Old Motors Abruzzo. Paolo Renzetti. Grosse novità per il circuito di Pescara. Nel 2017 ci sarà anche un ritorno in terra d'Abruzzo, per così dire, incredibile e clamoroso. Sì, dopo cinque mesi di trattativa tornerà Pescara a Sirling Moss dopo 60 anni. Quest'altro anno ricorre il sessantesimo anniversario dell'unico Gran Premio di Formula 1 che si è disputato in Abruzzo e lo vinse proprio Sir Sirling Moss, l'ultimo pilota vivente dell'epoca di Fangio, diciamo così. Lui vinse il Gran Premio di Pescara e dopo cinque mesi di trattativa siamo riusciti a riportarlo in Abruzzo. Ci saranno altre novità per il prossimo anno per quanto riguarda anche il circuito di Pescara? Sì, il circuito di Pescara sarà una gara a calendario Asi, sarà una gara molto impegnativa che vedrà circa 50 vetture tutte sport aperte ante 61 che verranno a disputare una gara in campionato Asi qui a Pescara. Avete chiesto il coinvolgimento degli enti, delle istituzioni ma anche di tutti i cittadini di Pescara? Sì, questo non è il circuito di Pescara e fa parte della storia di questo territorio. Io ricordo a tutti che Pescara è cresciuta grazie a quello che è stato la Coppa Acerbo, il circuito di Pescara o la Targa di Abruzzo vedeva milioni e milioni di persone riversarsi nelle strade del circuito di Pescara che ad oggi ha un record imbattuto di 25 chilometri. Restiamo a Pescara dove gli studenti del classico Danunzio e del Missiconi Belisario, oltre a quelli degli istituti comprensivi 4 e 10, il 19 e 20 dicembre metteranno in scena la manifestazione teatrale denominata Muta la città in cui racconteranno la storia dei bombardamenti che nel 1943 sconvolsero la città di Pescara appunto, il servizio. Vogliamo un attimo spiegare il senso di questa iniziativa Muta la città? Un'iniziativa che viene da un progetto che è durato un anno, quindi è una cosa molto particolare per la scuola perché ha permesso il coinvolgimento non solo di altre scuole che poi vedrete dal liceo artistico a due istituti comprensivi, il 4 e il 10 di Pescara, ma soprattutto ci ha permesso di coinvolgere la città, la cittadinanza di Pescara, coinvolgendola in prima persona all'interno di quello che sarà il racconto che sentiremo nelle due giornate, la prima che sarà il 19 sera alle ore 21 al Flaiano e il mattine e il giorno dopo riservato soprattutto alle scuole. Hanno fatto una ricostruzione storica di tutto ciò che riguardava i fatti del passato, proprio per ridare memoria storica alla città di Pescara attraverso una ricostruzione fatta dai ragazzi, quindi dove il teatro, le arti sceniche di cui il nostro liceo ha curato appunto le scenografie, le arti filmiche e le riprese fotografiche hanno consentito di dare luce su questi fatti accaduti per riportarli all'attualità e per far riflettere anche in parallelo con i fatti che oggi all'attualità prendono la nostra attenzione. Ed ora passiamo alla pagina sportiva, sono 21 i giocatori convocati dal tecnico della Pescara Massimo Oddo per il match di domani contro il Bologna. Recuperati Biraghi e Fornasier, mancano lo squalificato Aquilani e gli infortunati Mitrita, Baebec e Pepe. Sarà Manai a giocare al centro dell'attacco, sostenuto da Benalì e Caprari. Tornerà a titolare Biraghi a centro campo Verre, Memushai e Brugman. Massimo Oddo, lo ha detto in conferenza, obbligo dei tre punti ancora di più alla luce della vittoria dell'Empoli per 2-0 nell'anticipo con Cagliari. Il servizio. Io ho fatto un discorso ai ragazzi inizio settimana, mettendo da parte tutto quello che è successo fino a questo momento. Tutte le contraddizioni che ci sono state, che ci sono state anche normali, contraddizioni che ci sono state tra giocatori, piazza, giornalisti, con l'allenatore e quant'altro. di far finta che c'è una persona nuova, un allenatore che sta lì, che vuole vedere, vuole vedere giornalmente gli allenamenti, vuole vedere giocatori che hanno la convinzione, la cattiveria, la voglia di ribaltare un momento negativo. E quindi tutto quello che è successo prima non mi interessa, volevo vedere questo durante questa settimana. C'è stata una reazione, c'è stata una consapevolezza, ho visto giocatori cambiati da un punto di vista mentale e le mie scelte domani, oltre che avere una rilevanza tecnica, ma questo è ovvio, ricadranno certamente su giocatori che ho visto convinti di scendere in campo per vincere. È una partita come sempre importante, in questo caso è una partita in cui arrivano due squadre che sono in difficoltà. Certamente il Bologna ha più punti di noi, quindi è più sereno, però non credo che sia così sereno perché ovviamente non vince da un po'. Noi giochiamo in casa e andremo in campo per vincere. Quello che conta domani è vincere. Dobbiamo vincere, dobbiamo entrare in campo con la giusta mentalità, dobbiamo entrare in campo con la mentalità che ci ha contraddistinto nelle prime partite, che ci facevano andare in campo sereni, spensierati. So che non è difficile in questo momento, ma in questa settimana ho lavorato molto sulla testa dei ragazzi per far capire loro che quello che abbiamo fatto in tante partite, al di là poi del risultato, è qualcosa che abbiamo fatto in diverse partite, non in una sola. Non potevano essere cose episodiche. Se le abbiamo fatte è perché c'è un lavoro dietro perché siamo stati in grado di farle anche contro grandi squadre. E nel Bologna fuori causa Rizzo e Lander Morleo e Verdi recupera Di Francesco che viene convocato ed è in lizza per un posto nel tridente d'attacco completato da Creici e Destro. Anche il Bologna lo sta attraversando un buon momento. Donadoni tenta di spronare i suoi. Ascoltiamolo. Io quando vedo un giocatore che in area di rigore prova a dribblare, a fare una cosa difficile e complicata e poi non riesce, la guardo con un occhio più benevolo rispetto a quello che invece in area di rigore capisce che ha solo un avversario, non ci prova, fa marcia indietro, scarica. Questo non è un atteggiamento propositivo, questo è un atteggiamento un po' da paura. Convinti di andare a fare il risultato, convinti di andare a giocarsi la partita con energia, con forza, con determinazione, insomma queste cose che già conoscete. È chiaro che il Pescara è in una situazione non semplice, però troveremo un ambiente che ha tanti risvolti anche difficili, però alla fine si va in campo, si gioca in un terreno che è 100 per 70 e bisogna vincerla lì, farla lì la partita, non per quello che succede fuori, sugli spalti o intorno. Quindi noi dobbiamo essere molto focalizzati su questo. Il fatto che non vinciamo fuori casa da parecchio tempo ha un significato relativo, perché poi alla fine uno mediamente raccoglie un po' quello che semina. È chiaro che ci sono state delle partite dove per un pizzico di astuzia, tra virgolette in più, potevamo anche portare a casa il risultato pieno, questo non si è verificato, c'è sempre la volta successiva e quindi vediamo di cogliere le opportunità. E la Juventus di Fabio Grosso si conferma a capolissa del campionato primavera battendo per 3-0 il Pescara di Rusciti. Il servizio? Abbiamo fatto un'ottima partita, è un risultato meritato, sono contentissimo della prestazione di oggi e finiamo l'anno in testa della classifica come volevamo fare prima di questa partita e ci siamo riusciti. La squadra oggi ha fatto molto bene, quindi quando la squadra gioca in questo modo le individualità che abbiamo vengono fuori e oltre a Ken ci sono stati tanti ragazzi che hanno fatto un'ottima partita. Oltre alla primavera abbiamo visto salutarla con Massimo Oddo, cosa vi siete detti? Siamo salutati, siamo amici, mi sono salutato con Davide Rusciti, giocavamo insieme quando eravamo piccolini, quindi è sempre bello rivederci. Ci vediamo d'estate e ora abbiamo avuto l'occasione anche di vederci durante l'anno e quindi è un piacevole rincontro. Un ritorno a Pescara comunque è sempre un piacere tornare a casa come si suol dire? Sì, sì, era tanto che con i ragazzi, insomma sono quattro anni che con i ragazzi non è mai capitato venire a giocare a Pescara, mi ha fatto tanto piacere, insomma abbiamo abbinato anche una bella partita, quindi insomma siamo contentissimi. Come ha visto la formazione Biancazzurra oggi? Ma sapevo che era una squadra che provava a giocare, provava a giocare bene, aveva messo in difficoltà tante squadre e sarebbe servita, sapevo che sarebbe servita una prestazione importante, fortunatamente c'è stata e quindi ci teniamo la testa della classifica. Il futuro di Fabio Grosso dopo questo campionato primavera? Ma poi vedremo, non ho fretta di fare niente, sono in una società grandissima, sono nel posto che in questo momento mi piace stare e quindi sono contentissimo del presente e il futuro poi quando verrà lo analizzeremo. In Lega Pro per la partita di domani della Teramo contro la Feral Pisalò non sono stati convocati Scipioni, Cedicola Jefferson, Fratangelo e Petrella. L'allenatore Zauli conferma il 4-3-1-2 visto a Parma. Sansovini a fianchere a Croce, due Ibalottaggi, Caidi Capitanio in difesa e Bulevardi Peterman a centrocampo. Tra i Lombardi sarà Romero ad avvicinare lo squalificato Gerardi. Il servizio. Penso che possa essere un modulo che ci possa permettere di difendere e nello stesso tempo fare sempre gol e quindi cerco di portarlo avanti. Ero partito con tutto il ritiro estivo portando questo dopo l'Umezane, ho visto un po' di difficoltà e quindi ho provato ad andare incontro alle caratteristiche e penso che sia anche giusto a volte. Dopo adesso ci siamo tornati, io credo in questo, volevo dare un segnale forte, i ragazzi hanno risposto in maniera positiva sotto il profilo mentale e fisico e quindi continueremo su questa strada. L'intuizione di Lippon Antonio come l'hai avuta? Quello è un ruolo che ho sempre fatto io e per quanto mi piace a me io vedo che Alessandro quando giochiamo le partitine è uno che va sempre alla ricerca della palla, non ha un ruolo mai specifico secondo me. ha tante buone caratteristiche come quella della resistenza, come quella della tecnica, quindi perché non può fare un ruolo così ed è molto utile sia in fase difensiva, molto applicato, ha fatto una partita molto applicata e può essere decisivo nelle fasi, negli ultimi 30 metri come spesso ha dimostrato, quindi secondo me lo può fare molto bene. Si dice sempre che la squadra che si va a incontrare è sempre molto forte, però io in effetti lo penso che la Ferralpicello sia stata una squadra costruita per stare tra le prime 5-6 posizioni e stiamo vedendo il campionato, ormai sta finendo il girone d'andata domenica, quindi capiamo che le prime 5-6 hanno dei valori importanti di personalità, di tecnica, di fisicità e quindi la Ferralpicello la metto tra queste. Gli ultimi risultati, ho visto le ultime partite, sono stati bugiardi perché hanno perso col Pordenone discutendo una buona partita, hanno perso a Reggio, quindi anche un calendario di tanti scontri diretti e quindi verrà una squadra ferita perché viene da sconfitte e una squadra forte, quindi noi dobbiamo fare una partita molto più intensa di quella di Parma. Ieri sera presso l'Osteria Strabacco di Teramo si è svolta la cena di Natale del club Biancorosso, una conviviale cui ha preso parte una delegazione della squadra e della società. Ascoltiamo ai microfoni di Jacopo Forcella, il patron Teramano, Luciano Campitelli. Dobbiamo ringraziare il club che ha fatto una cosa molto bella, ci saranno tanti tifosi, ci saranno tanti amici e quindi dobbiamo dirgli bravi. Adesso dobbiamo essere bravi noi a cercare di vincere queste due partite così da poter stare più tranquilli anche per il futuro e questo è il primo nostro obiettivo. Chi non andrà in vacanza, gliel'abbiamo ricordato prima, è il direttore tecnico Alec Bolla perché quando tutti saranno in vacanza lui invece avrà super lavoro, ma avrà super lavoro in uscita più che in entrata? Sicuramente Bolla sa cosa dovrà fare e sicuramente ci dovranno essere delle uscite perché abbiamo una rosa molto vasta e poi sappiamo dove dover intervenire perché ne abbiamo già parlato con il mister e con lui. Dopo la maceratese ha detto noi perderemo anche a Parma e l'aveva detto anche qualche anno prima, prima di un Forlitera, ma non è che utilizza anche un po' di scaramanzia in alcuni frangenti? Ma noi addetti al calcio, per noi la scaramanzia è una cosa che ci assale ogni secondo, quindi lo ripeto, speriamo che perdiamo domenica con il Ferral Pisalò. L'ultimissima perché in conferenza stampa Zauli ha detto Di Paolo Antonio, io ho fatto il ruolo da trequartista, ho avuto la maglia numero 10 sulle spalle, Di Paolo Antonio è quello che potrebbe ricalcare più o meno quella che è stata la mia posizione, il Presidente Campidelli è d'accordo, Di Paolo Antonio trequartista come lo vede? Penso che sia un giocatore che prima o poi andrà in Serie B, quindi un giocatore molto forte, molto importante e quest'anno ci dovrà dare una grossa mano a noi in modo che ci dobbiamo togliere da questa posizione di classifica e poterci riprogrammare per l'anno prossimo. Obiettivo sembra la salvezza? Sicuro. In Serie D lotta aperta per il titolo d'inverno, domani ultimi 90 minuti per il girone d'andata. San Nicolò e Vastese se la giocano nel girone F, più complicato il discorso per l'Aquila che a Sassari cerca comunque un successo per restare in scia al gruppo di testa. Il servizio. San Nicolò e Vastese si contendono il titolo d'inverno del girone F di Serie D con il terzo incomodo Fermana pronto a infilarsi e sfruttare eventuali passi falsi. A meno tre dalla vetta il Matelica, reduce da due sconfitte, resta saldo sì nella lotta al vertice ma fuori gioco per questo sprint. Il San Nicolò sarà di scena al polisportivo di Civitanova con l'obbligo di non farsi fuorviare dai problemi societari della compagine marchigiana che in settimana ha perso Lignani e soprattutto il capitano e bomber negro. La squadra di Epifani in settimana ha inserito in rosa gli esterni Marco Di Benedetto e Daniele Bosi e ha salutato il baby De Giglio. Match sulla carta più duro per la Vastese che giocherà al Civitelle di Agnone. Contro l'Olimpia sarà quasi derby per la squadra di Colavitto che in settimana ha sfoltito l'organico con le cessioni di Marinelli, Bacchiocchi e Di Domenico. Da Vasto accorreranno alcune centinaia di tifosi per sostenere la squadra. Giornata granata indetta dalla società alto molisana. Trasferta ostica per il Pineto proprio sul campo di un Matelica tanto attivo sul mercato, via Cacioli e Di Maio preso a Rosania, quanto in crisi di risultati. I marchigiani puntano senza mezzi termini alla vittoria ma il Pineto non ha una classifica sorridente, deve fare risultato. Nel girone G l'Aquila è sempre all'inseguimento del primo posto ma con quattro squadre da superare non può ambire al titolo d'inverno. Tuttavia in casa del Latte Dolce Sassari l'Undici di Morgia va per la vittoria, partirà dalla panchina l'esperto Alessandro Steri prelevato dal Sante d'Oro per dare ulteriore sostanza al pacchetto mediano. Gara da prendere con le pinze contro l'Undici Sardo capace di espugnare il campo della capolista Rieti. Al Dei Marsi contro il fanerino di coda Torres guidato in porta dall'ex pescarese e inossidabile Torre Pinna, l'Avezzano vuole regalarsi la seconda vittoria consecutiva e una classifica positiva. Per i marchigiani c'è da fronteggiare il virus Sardo, una vittoria e un pari e quattro sconfitte contro le squadre isolane. Virus che fa meno paura con i gol di Serrago e Marolda. Domenica senza calcio per le note vicende a Chieti ma i tifosi saranno in curva volpi per manifestare il loro amore verso i colori neroverdi. Lo faranno domani alle 19.22, orario particolare scelto perché richiama l'anno di fondazione della squadra cittadina. E domani alle 11.30 andrà in onda la puntata speciale dell'ormai noto programma di TV6 in cucina con lo chef. Rachele del Borrello, Antonella Carrieri e Nicola Vizzarri presenteranno al pubblico in studio e a casa il menù della vigilia di Natale a base di pesce che comprenderà le ricette della tradizione natalizia rivisitate dalla chef e comunque di facile esecuzione. Dai consigli sui vini ai momenti musicali, una puntata da seguire qui su TV6 domani alle 11.30. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.